Musica Io sono molto contento di essere qui a Soveria stasera e sono molto contento anche di avere questo premio come calabrese che vive lontano, ogni circostanza in cui torno in Calabria mi è molto gradita e mi è molto gradito in particolare il segno di una città dove la cultura ha un ruolo importante anche grazie a un editore che è riuscito a conquistare un ruolo nazionale come Rubettino essere qui a dare testimonianza anche da calabrese emigrato della importanza della cultura in Calabria è una bella esperienza e sono molto grato a chi mi ha assegnato questo premio Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!